In una svolta narrativa attesissima e carica di suspense, la telenovela La Promessa sta per inaugurare un nuovo capitolo che promette di stupire e lasciare gli spettatori senza fiato. Sul canale televisivo Canale 5, un pubblico affezionato e sempre più curioso si prepara a essere spettatore della risoluzione di un enigma che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il segreto di Dolores. Questa azione non rappresenta solo l'apice di episodi precedenti, ma segna un crocevia fondamentale per le dinamiche tra i personaggi, i cui destini sono strettamente legati a questo mistero. Ramona, un personaggio che ha destato simpatia e preoccupazione, si appresta a fare il suo ritorno sullo schermo. Le circostanze del suo rientro sono tanto misteriose quanto il suo lungo silenzio. Emergendo dall'oscurità del suo passato, si presenterà ai telespettatori portando le cicatrici di un viaggio presumibilmente tormentato e pieno di difficoltà. La sua figura malconcia che si dirige verso la sua capanna è un simbolo potente della sua lotta e resilienza. E gli spettatori non possono fare a meno di chiedersi quali oscuri segreti essa custodisca. Per continuare a seguire gli sviluppi avvincenti di La Promessa, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale. Cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sulle ultime novità, colpi di scena e rivelazioni. Il vostro sostegno è fondamentale, e siamo entusiasti di condividere con voi ogni emozionante tappa di questa affascinante trama. In questa tempesta emotiva, Curro emerge come il protagonista del tumultuoso viaggio alla ricerca della verità. Le acque agitate del dubbio e delle speculazioni hanno segnato il suo percorso, guidato dal bisogno viscerale di comprendere la sua origine e il suo posto nel mondo. La scoperta sconvolgente che Alonso sia suo padre, un uomo apparentemente insignificante che si rivela essere il filo conduttore della sua esistenza, sottolinea la complessità del destino di Curro. Il fatto che Alonso abbia avuto un figlio con Dolores, proprio sotto il tetto della grande villa dove lei prestava servizio, rappresenta una rivelazione che scuote le fondamenta del mondo di Curro. Questa rivelazione gli offre una nuova, seppur complicata, identità, aprendo nuovi scenari e intrecciando il destino dei personaggi in maniera inaspettata. Queste rivelazioni sono destinate a scatenare una serie di eventi che altereranno per sempre la trama narrativa. Ogni personaggio si trasforma in una pedina su una scacchiera in rapida riorganizzazione, con alleanze ed antagonismi che si formano in reazione a questa nuova verità appena immersa. La storia, come un tessuto intricato, si dipana attraverso le reazioni e le scelte dei personaggi di fronte a questo nuovo capitolo di Segreti Svelati. L'impatto di questa rivelazione non si confinerà alle mura della villa né ai limiti del piccolo schermo. Si diffonderà come un'onda attraverso le vite intricatamente intrecciate di ogni personaggio coinvolto. Mentre gli spettatori attendono con ansia le prossime puntate, una domanda rimane sospesa nell'aria. Come reagirà Curro alla scoperta che la sua esistenza è radicata in un passato così intricato e doloroso? La risposta, senza dubbio, terrà tutti incollati alle loro sedie, con gli occhi fissi sul dramma che si svolge mentre la verità di dolore si emerge lentamente ma inesorabilmente. Curro, con il peso della verità ormai nel cuore, si trova di fronte a un vivio morale di profonda complessità. La decisione di custodire il segreto, di non rivelare le sconvolgenti origini che legano lui, Gianna e la figura ombrosa di Alonso, è stata presa con un misto di protezione e paura. La sua lotta interiore, intrisa di dilemmi morali e di un senso di responsabilità, aggiunge ulteriore tensione e dramma alla trama. Il destino dei personaggi è sospeso in un equilibrio instabile, pronto a crollare sotto il peso delle scelte difficili. Il silenzio scelto da Curro è tanto più eloquente considerando che Gianna, l'altra metà di questo enigma familiare, è geograficamente ed emotivamente distante, immersa in una fuga romantica e avventurosa con Manuel, lontana dalla tumultuosa realtà della festa in maschera da cui sono scappati. L'immagine di Gianna e Manuel, fuggitivi in un mondo a parte, crea un contrasto vivido con la solitudine di Curro, costretto a confrontarsi con il peso della storia familiare in solitudine. La festa in maschera, con i suoi volti celati e le identità nascoste, diventa una potente metafora della vita di Gianna e Curro. Anche loro hanno indossato involontariamente maschere, ignari delle verità celate sulle loro origini. Il passato di Gianna e Curro, un puzzle di momenti e memorie, si ricompone davanti agli occhi del pubblico con un'intensità crescente. Dolores, nella sua gioventù, aveva servito nella tenuta la promessa non solo come lavoratrice, ma anche come madre, un ruolo segnato da affetto e sacrificio. La rivelazione di questo passato complesso getta luce sulle dinamiche intricate che hanno plasmato la storia di questi personaggi. Mentre Gianna e Curro indagano sulle proprie radici, i legami familiari si rivelano più intricati di quanto avessero mai immaginato. La scelta di fuggire, motivata dalla disperazione di proteggere Curro da un destino nefasto e da un tentativo di rapimento, ha segnato l'inizio di una narrazione tessuta di segreti e silenzi. Anni dopo, Gianna, con la sua tenacia distintiva, si infiltra nella vita della villa assumendo l'umile ruolo di cameriera. Questo non è solo un lavoro, ma un mezzo per avvicinarsi a una verità che sentiva pulsare nelle sue vene fin dall'infanzia. Il suo percorso di scoperta la porta a una consapevolezza che va oltre il semplice legame fraterno con Curro. Un passato comune li unisce, ma una diversa paternità li divide. La rivelazione che Curro e Gianna condividono la stessa madre, ma non lo stesso padre, risuona come un eco di una tragedia greca. Tuttavia, è un fatto molto reale che si sta dipanando sul piccolo schermo. Mentre Gianna rimane all'oscuro del nodo che si sta sciogliendo a migliaia di chilometri di distanza, Curro è lasciato a gestire le onde sismiche di questo terremoto emotivo da solo. L'intera situazione si presenta come un intricato reticolo di verità celate e menzogne a metà, di identità mascherate e scoperte inattese. Questo intricato intreccio di segreti e rivelazioni si sta dispiegando in modo drammatico, dando vita a un'atmosfera di tensione e suspense. Mentre Curro naviga tra le complessità della sua storia familiare, lo spettatore è coinvolto in una trama avvincente, dove il passato e il presente si intrecciano in un intricato gioco di destini. Nella suspense del momento, la domanda che si impone è inequivocabile. Curro riuscirà a mantenere il segreto? O la verità troverà una via per emergere e scuotere le fondamenta di questo intricato mondo della promessa? La risposta è celata nel futuro. In puntate che promettono di essere ricche di nuove rivelazioni e di momenti di svolta che saranno decisivi per il destino dei personaggi a cui ci siamo affezionati. La saga della famiglia, intorno alla quale si intreccia la trama della promessa, ha già visto molteplici colpi di scena, ma nessuno paragonabile all'improvviso ritorno di Ramona. Questa figura materna, un tempo onnipresente e la balia che aveva curato ogni bisogno di Giana e Curro fin dalla loro più tenera età, era scomparsa nel nulla, lasciando dietro di sé soltanto domande senza risposta. Mentre la storia si dipana, Ramona riemerge dal passato con un bagaglio di segreti e verità sconcertanti. Il suo ritorno getta una nuova luce sulle intricazioni della trama e solleva interrogativi cruciali sulle origini dei protagonisti. L'aspettativa è alle stelle mentre gli spettatori si preparano a immergersi in una serie di puntate cariche di suspense, pronti a svelare i misteri che permeano il passato e il presente della famiglia della promessa. La sua assenza ha creato un vuoto incolmabile, avvolgendo il personaggio di Ramona in un mistero che ha lasciato gli spettatori in ansiosa attesa. Con il suo ritorno, il pubblico trattiene il fiato, consapevole che ogni parola pronunciata potrebbe essere la chiave per decifrare gli enigmi che circondano la vicenda. Le circostanze del suo ritorno sono tanto drammatiche quanto la sua partenza, e la sua apparizione quasi fantasmatica nella vecchia capanna, che un tempo era stata testimone di momenti di gioia e gioco innocente, è un presagio di rivelazioni imminenti. Ramona, la cui saggezza e calore erano una volta la roccaforte emotiva dei bambini, si trova ora a portare un fardello di verità. Il suo sguardo, che un tempo irradiava gentilezza, sembra ora ombreggiato da un peso insostenibile. Gli spettatori possono solo immaginare le tempeste che ha dovuto affrontare lontano dai loro occhi, le battaglie combattute e i segreti custoditi. Il ritorno di Ramona aggiunge un nuovo strato di complessità alla trama, promettendo di svelare verità nascoste e sconvolgere l'equilibrio fragile dei personaggi. La sua presenza, carica di mistero e significato, getta luce su eventi passati e futuri, creando un'atmosfera di tensione e aspettativa tra gli spettatori. Mentre il pubblico si prepara ad immergersi nelle nuove puntate, il destino di Ramona diventa un elemento centrale, e la sua storia si intreccia con quella dei protagonisti, portando con sé la promessa di rivelazioni epocali. Mentre Ramona si concede un momento di riposo, forse dopo innumerevoli notti insonni, Curro coglie l'opportunità per cercare risposte. Guidato da un impulso irresistibile di scoprire le proprie origini, il giovane uomo si muove furtivamente, consapevole che ciò che sta per scoprire potrebbe cambiare il suo destino per sempre. La lettera di Dolores, scritta di suo pugno e sigillata con il peso di una confessione troppo a lungo taciuta, è già nascosta in un angolo riposto, come se aspettasse il momento giusto per essere scoperta. La rivelazione che scaturisce dalla lettura di quelle parole su carta ingiallita è più sconvolgente di qualsiasi cosa Curro potesse immaginare. Dolores, la donna che ha sempre creduto essere sua madre senza mai dubitarne, aveva un segreto profondo. Alonso, l'uomo per il quale aveva lavorato nella villa, era il suo vero padre. Questa verità, ora inconfutabile, si staglia di fronte a Curro come un cristallo tagliente e pesante come il piombo. Le emozioni che travolgono Curro in questo momento sono complesse e profonde. La sua percezione del mondo e delle persone a lui care è scossa fino alle fondamenta. Mentre tiene tra le mani la lettera che rivela la sua vera genealogia, Curro si trova di fronte a un crocevia che ridefinirà la sua identità e il suo rapporto con il passato. La trama di La Promessa si arricchisce di nuovi sviluppi, portando gli spettatori in un viaggio emozionale intenso e imprevedibile. Mentre Curro assimila la rivelazione, gli spettatori sono testimoni della trasformazione del suo personaggio. Da ragazzo in cerca di se stesso a uomo consapevole della complessità del tessuto familiare da cui proviene. La paternità di Alonso non è solo una questione di sangue, ma una ragnatela intricata di relazioni, promesse e segreti che Curro deve ora affrontare, con la verità finalmente svelata. E inoltre, il rapporto tra dolore se Alonso sarà stato consensuale oppure Alonso ha abusato della cameriera? La crescita interiore di Curro è evidente, e gli sguardi profondi e carichi di significato raccontano di una maturazione accelerata dall'urto con questa nuova realtà. L'affetto che prova per quello che finora aveva considerato come suo zio, e che adesso invece si è rivelato essere suo padre, lo porta a non poter neanche considerare l'idea che possa avere abusato di sua madre, e che quindi lui sia frutto di una violenza. Ma il dubbio resta, e verrà dipanato solo alla fine della promessa, tenendoci tutti con il fiato in sospeso. Intanto il prossimo passo di Curro è avvolto nell'incertezza. Come gestirà questa nuova consapevolezza? Come influenzerà le sue relazioni con coloro che lo circondano? E cosa farà Ramona quando scoprirà che il segreto che ha custodito per così tanto tempo è ora di dominio pubblico? Queste domande, e molte altre, rimangono sospese nell'aria, mantenendo gli spettatori in un'attesa febbrile per i futuri sviluppi. La trama si è arricchita di nuovi strati di complessità, i personaggi si sono evoluti, e la storia ha assunto una nuova direzione, irrevocabilmente alterata dall'emergere di questa verità a lungo occultata. L'esperienza di la promessa si trasforma in un viaggio emozionale avvincente, dove ogni rivelazione scuote le fondamenta della trama e offre uno sguardo più profondo nella psicologia dei personaggi. Nel tessuto intricato di questa storia, emergono sottili fili di sospetto che tessono la possibilità che Cruz sia in possesso di informazioni molto delicate. La verità in questione è un peso che potrebbe bilanciare o sconvolgere gli equilibri esistenti. Se Cruz venisse a scoprire che Curro è venuto a conoscenza di questa verità sconvolgente, potrebbe scaturire una reazione imprevedibile da parte sua. L'aura di mistero che avvolge le sue azioni lascia presagire che qualsiasi sua mossa sarà calcolata con precisione, e che le ripercussioni potrebbero essere di vasta portata. Parallelamente, un altro filo narrativo si intreccia, creando un groviglio di tensione. Catalina si trova in una situazione di pericolo imminente. La causa di tale pericolo è un piano astutamente orchestrato da Cruz e Pelaio. La presenza di Catalina in questo intricato gioco di inganni e manipolazioni suggerisce che la trama stia rapidamente avvicinandosi a una svolta cruciale. La suspense aumenta mentre gli spettatori si chiedono quale sarà l'esito di questo pericoloso piano e come Catalina reagirà alla minaccia imminente. La storia si dipana con molteplici fili narrativi, ciascuno intessuto con abilità e pensato per mantenere alta l'attenzione degli spettatori. I personaggi si trovano in un intricato labirinto di segreti, dove ogni passo potrebbe rivelare nuove verità o intrappolare i protagonisti in un vortice di inganno. Noi spettatori siamo costretti a rimanere con il fiato sospeso, pronti ad immergerci nei prossimi episodi che promettono di svelare ulteriori colpi di scena e intrighi avvincenti. Questi due alleati circostanziali, o complici di lungo corso, sono legati da un oscuro obiettivo, eliminare Catalina. Il motivo dietro questa grave risoluzione non è ancora chiaro, ma ciò che è evidente è la loro determinazione, con strategie a volte da ombre e azioni che si muovono nel silenzio. Stanno procedendo verso il compimento del loro oscuro disegno, la situazione che si sviluppa sembra un intricato gioco a scacchi giocato con pedine umane, dove ogni mossa ha potenziali conseguenze letali. La trama si addensa, gli intrighi si moltiplicano e i personaggi si trovano a navigare in acque sempre più tumultuose. Resta da vedere come questi fili si intrecceranno o si spezzeranno sotto la tensione crescente, e quali segreti emergeranno dall'ombra per cambiare il corso degli eventi. In questo dramma di passione, potere e pericolo, siamo inevitabilmente destinati ad essere catturati dalle imprevedibili svolte della trama. Ricordatevi quindi di iscrivervi al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni della promessa. Dove ogni episodio promette di essere un vortice di emozioni e rivelazioni che ci terranno incollati alla sedia. Grazie. A presto.